Ben trovati a questo nuovo appuntamento con una finestra sul nostro format che lo ricordiamo sempre va in onda in contemporanea se nel Lazio dove Rete Sole si può vedere sul canale 87 del digitale terrestre se in Umbria dove invece Rete Sole è visibile sul canale 13 una finestra su lo sapete se ci seguite già da un po' è una trasmissione che ogni settimana cerca attraverso interviste di circa mezz'ora e di accendere i riflettori su argomenti di vario tipo che vanno dalla politica allo sport alla cultura fino addirittura al sociale in questo caso ci occupiamo di sanità ed è un piacere farlo anzi un onore per quanto mi riguarda con il direttore del centro nazionale trapianti il dottor Massimo Cardillo, ben trovato. Grazie di questo invito. Grazie a lei per aver accettato perché immaginiamo insomma gli impegni. Direttore potremmo intanto spiegare a chi ci sta seguendo che cos'è di fatto il centro nazionale trapianti come strutturato e quali sono le principali attività che si svolgono al suo interno. Allora il centro nazionale trapianti nasce vent'anni fa nel 1999 come organismo tecnico del ministero e il suo compito è quello di avere funzione di indirizzo, di coordinamento e di promozione dell'attività di donazione di trapianto di organi, tessuti e cellule. Quindi è l'organismo nazionale che coordina tutte queste attività. Sul sito ufficiale del centro si legge che la mission è indirizzata al rafforzamento della rete nazionale trapianti attraverso la realizzazione di un modello di governance e programmazione partecipata tra Stato, regioni e province autonome che lo pone al centro di un sistema organizzativo complesso. Le chiederei a questo punto di spiegarci anche che cos'è invece la rete nazionale trapianti. Allora il centro nazionale trapianti è un po' l'interfaccia tra le autorità competenti, quindi ministero e regioni e la rete trapiantologica che è costituita dai centri di trapianto, i centri che procurano i donatori, le banche dei tessuti, i centri che arruolano i pazienti in lista d'attesa, quindi ha un'interfaccia più di governance e anche un'interfaccia operativa di coordinamento perché il centro nazionale trapianti operativo per esempio coordina le donazioni H24 assegna gli organi per i pazienti urgenti, quindi ha delle vere e proprie funzioni operative che vengono svolte quotidianamente. La rete, quella che noi chiamiamo la rete trapianti, è l'insieme degli operatori e delle strutture che rendono possibile il percorso trapiantologico che è diverso ovviamente per le diverse tipologie di trapianto perché il trapianto degli organi ha determinate caratteristiche e anche ovviamente diversi organi che vengono trapiantati e rispondono a necessità diverse. Il trapianto di tessuti è diverso dal trapianto di organi, il trapianto di midollo ha delle sue peculiarità, però tutte queste reti vengono governate dal centro nazionale che svolge appunto le funzioni che dicevo prima con le peculiarità che caratterizzano ciascuno di questi programmi. Sapiamo che il centro contribuisce per l'appunto a rendere efficace e armonica la gestione di procurement per l'appunto di organi, tessuti e cellule del paese. Tra organi, tessuti e cellule che cosa risulta essere di norma maggiormente richiesto? Ma allora se andiamo sui numeri assoluti sicuramente il trapianto di tessuti è quello che è i numeri più alti. Il trapianto di organi da suo canto è quello che si caratterizza per la maggiore complessità e anche per la maggiore urgenza perché ovviamente chi aspetta un organo per il trapianto è un paziente soprattutto per alcuni organi che vengono trapiantati che ha anche un'aspettativa di vita molto limitata per cui nel caso degli organi il sistema deve viaggiare con un livello di complessità e di urgenza che è più elevato rispetto alle altre tipologie di trapianto. Le altre differenze che caratterizzano il mondo del trapianto degli organi rispetto a quello dei tessuti per esempio è il problema grosso che è la principale mission del Centro Nazionale Trapianti è quello del procurement dei donatori perché c'è ad oggi una grande discrepanza tra il numero di pazienti che aspetta l'organo per il trapianto e il numero di organi disponibili e questo si traduce in tutto il territorio nazionale in tempi di attesa che in alcuni casi sono anche piuttosto lunghi e per alcuni organi anche una mortalità in lista d'attesa nel senso che purtroppo alcuni pazienti muoiono in lista perché l'organo non è arrivato in tempo quindi l'obiettivo principale che ha nella governance di questo sistema il Centro Nazionale Trapianti è quello di ottimizzare il recupero di tutti i potenziali donatori per poter dare una risposta di terapia a questi pazienti che quasi sempre non hanno alternative di trattamento che quindi trovano nel trapianto l'unica chance di cura Secondo dati piuttosto recenti nel 2019 c'è stato un leggero aumento del numero di trapianti effettuati quanta strada c'è ancora da fare per convincere persone scettiche a dare l'ok per l'eventuale esportazione di organi e non solo? Allora abbiamo avuto un aumento del numero di trapianti anche se lieve nel 2019 che è corrisposto anche a un aumento anche se lieve del numero dei donatori segnalati c'è però ancora un problema sul consenso quindi i tassi di opposizione alla donazione in alcune regioni sono ancora elevati per ottimizzare come dicevo prima il recupero degli organi per trapianto bisogna lavorare su due ambiti uno è l'ambito organizzativo che riguarda la rete degli ospedali che devono mettere in atto tutte le azioni che consentono la donazione perché la donazione è un atto sanitario abbastanza complesso che comunque richiede un impegno da parte dell'ospedale bisogna prevedere delle strutture, i coordinamenti locali che identificano il donatore tutti i professionisti che devono partecipare alla valutazione di doneità del donatore e degli organi quindi c'è un tema di organizzazione sanitaria dietro l'ottimizzazione di quello che noi chiamiamo il donor procurement e questo è il primo versante poi c'è un versante che riguarda il consenso alla donazione il consenso alla donazione che oggi può essere espresso in due modi invita perché ciascuno di noi può manifestare la volontà, la donazione degli organi invita con varie modalità, soprattutto quando si rinnova la carta di identità e questa è una cosa che viene chiesta a tutti oppure quando questa manifestazione invita non è presente si chiede il consenso ai familiari nel caso appunto del decesso del proprio congiunto i tassi di opposizione che noi osserviamo alla donazione sono abbastanza omogenei tra la manifestazione invita e l'espressione dei familiari però mostrano delle disomogeneità importanti a livello geografico tra le diverse regioni italiane perché i tassi di opposizione per esempio sono più alti nelle regioni del centro-sud rispetto alle regioni del nord e questo per una serie di motivi che abbiamo anche indagato e che sono correlabili anche alla fiducia che i cittadini hanno rispetto al sistema sanitario e anche alla conoscenza sui temi della donazione Qual è la sfida? Lei ci ha fatto presente questi due comparti rispetto al problema dei donatori Dove c'è maggiore emergenza? Cioè rispetto a quello che riguarda l'organizzazione degli ospedali oppure rispetto magari proprio a questo scetticismo, a questa carenza se vogliamo ancora di donatori? Ci sono tutte e due le cose perché noi lo possiamo misurare molto bene l'organizzazione degli ospedali impatta sul numero delle segnalazioni dei potenziali donatori cioè di quei soggetti che una volta morti vengono proposti come candidati alla donazione Se l'ospedale non è organizzato nel segnalare questi donatori noi lo misuriamo e lo vediamo subito attraverso la riduzione del tasso di segnalazioni Il consenso invece lo misuriamo dai tassi di opposizione quindi fatte salve le segnalazioni così come vengono fatte dagli ospedali poi una parte di questi donatori segnalati lo si perde perché c'è l'opposizione o in vita o da parte dei familiari quindi sono due aspetti che vanno insieme ma che noi possiamo misurare separatamente per capire nelle diverse sedi geografiche se incide di più l'uno o l'altro di questi due fattori ma sono due elementi che giocano insieme in questa partita Rispetto al nodo consenso ci sono magari delle iniziative che sono state avviate delle campagne vere e proprie di sensibilità? Ovviamente sì, il Centro Nazionale Trappianti già da tempo ha attivato delle campagne di comunicazione che sono rivolte al pubblico generale c'è una campagna nazionale che è stata definita da diversi anni che ha portato a una serie di iniziative sul territorio anche abbastanza particolari come per esempio quella che abbiamo fatto lo scorso anno a Lucca in occasione della giornata della Fiera Nazionale del Fumetto che è un evento che ha coinvolto in questa città della Toscana un numero altissimo di giovani, quasi 800.000 giovani quindi è stato anche un modo per avvicinare il pubblico giovanile E non solo credo, perché poi insomma Lucca da quel punto di vista credo si abbalga anche dalla partecipazione di un pubblico anche un po' più grande a livello anagrafico forse Sì, però sul tema del fumetto erano i giovani a essere più direttamente coinvolti La campagna nazionale poi, che si chiama appunto Diamo il meglio di noi è stata declinata nelle diverse regioni e anche in altre iniziative che poi non sono tutte promosse esclusivamente dal Centro Nazionale Trapianti perché nella rete trapiantologica ci sono anche i centri regionali cioè ogni regione ha un centro di coordinamento regionale che a sua volta sviluppa azioni di comunicazione coordinate con il CNT che stanno sotto questa grande campana della comunicazione nazionale Poi l'altro tema è quello della formazione Il Centro Nazionale ha impegnato anche tutta un'attività formativa che non è rivolta tanto al pubblico generale quanto agli operatori sanitari perché c'è una necessità anche tra gli operatori sanitari di capire come si effettua la donazione quali sono i temi tecnici dietro la donazione quindi vengono formati medici, infermieri dei reparti di rianimazione, degli altri reparti si fa formazione per esempio anche ai chirurghi sulle diverse modalità di trapianto quindi sono due ambiti diversi una della comunicazione che va più al pubblico generale una più di formazione che va sugli operatori sanitari E poi c'è il programma che è un po' a metà strada un po' di comunicazione, un po' di formazione che noi abbiamo specificatamente rivolto agli operatori degli uffici di Anagrafe perché questo è un po' il tema più rilevante in questi ultimi mesi perché gli operatori degli uffici di Anagrafe e di Stato Civile sono quelli che si interfacciano con i cittadini che vogliono manifestare in vita la volontà alla donazione quindi è importante che siano formati a dare questa opportunità in modo corretto è chiaro che noi non possiamo pretendere che l'operatore dell'Anagrafe faccia comunicazione sanitaria perché non si parla di sanitari però la comunicazione corretta questa si può fare quindi è importante formare anche questi operatori a dare ai cittadini informazioni corrette sulla donazione e spiegare che la scelta giusta da fare è quella del sì rimarrei ancora sul fatto delle donazioni perché di recente si è registrata una crescita proprio in termini di donazioni in diverse regioni come ad esempio Sardegna e Friuli Venezia Giulia in Sardegna sarebbero stati effettuati circa 76 trapianti nel corso del 2019 nel 2018 da quanto leggo qui ne vennero fatti 64 invece in Friuli ad esempio donatori di organi sarebbero aumentati del 10% come si spiega il fatto che in Italia ci siano da questo punto di vista delle regioni più virtuose è solo quello che dicevamo prima una sorta di fiducia nel sistema sanitario locale o c'è anche dell'altro a suo avviso questo magari è anche una fiore sì, torniamo un po' a quello che avevamo detto prima cioè queste differenze sono giustificate da un lato da diversi tassi di opposizione ma soprattutto dalla diversa capacità degli ospedali di segnalare i donatori in questo senso la regione italiana più virtuosa è la Toscana la Toscana ha dei tassi di donazione di donatori utilizzati che sono vicini a 50 donatori per milione di abitanti questo è l'indice che viene utilizzato per confrontare le donazioni nelle diverse aree geografiche la regione Toscana è la prima in Italia le altre regioni, ci sono regioni del nord come l'Emilia, il Veneto, il Piemonte che hanno tassi di donazione che oscillano intorno al 30-35 per milioni di abitanti ci sono regioni del sud che hanno tassi di donazione che sono intorno ai 10 per milioni di abitanti quindi ragioniamo in termini di un quinto rispetto alla Toscana perché queste differenze? come dicevo prima in parte ci giocano le opposizioni ma soprattutto è un problema di tipo organizzativo di segnalazioni da parte degli ospedali di organizzazione dei coordinamenti e quindi va a che fare proprio sul questo è un problema che riguarda proprio un tema di organizzazione sanitaria l'abbiamo detto anche all'inizio di questa trasmissione Redesole è un emittente che trasmette sia nel Lazio che in Umbria quindi vorrei sapere un po' com'è la situazione intanto nel Lazio da questo punto di vista rispetto quindi alle donazioni la situazione del Lazio si colloca un po' al di sotto della media nazionale non di molto ma insomma un po' al di sotto lo scorso anno in Lazio abbiamo registrato una piccola flessione delle donazioni quindi sicuramente i margini di miglioramento ci sono in Regione Lazio anche in Umbria c'è stata una flessione delle donazioni nel 2019 rispetto al 2018 che ha corrisposto a una situazione anche un po' di difficoltà che c'è stata in quella regione in diverse attività sanitarie però i dati di inizio anno del 2020 insomma fanno ben sperare in una ripresa anche in queste regioni questo sul fronte della donazione dal punto di vista delle attività trapiantologiche il Lazio è una regione soprattutto Roma è una città dove si concentrano centri trapiantologici di eccellenza quindi capaci di effettuare tutte le tipologie di trapianto anche più complesse l'Umbria è una regione che ha invece solo un centro di trapianto di rene e che per altre attività trapiantologiche come il cuore e il fegato rivolge i propri pazienti a centri di trapianto extra regionali con i quali sono state fatte degli accordi, delle convenzioni In linea generale, sempre pensando all'Umbria a livello di consenso per le donazioni come siamo messi? C'è una particolare elasticità da parte delle persone? Diciamo che in termini di opposizione alla donazione siamo intorno alla media nazionale quindi non c'è una situazione virtuosa come alcune altre regioni del nord ma neanche così negativa come altre regioni quindi siamo un po' nella media Invece voglio sapere se il fatto di avere un territorio non troppo esteso e quindi anche limitato in termini di strutture come può essere appunto il territorio Umbro se confrontato ad esempio con quello del Lazio se può creare problemi rispetto anche alla gestione di situazioni magari di emergenza come ad esempio l'eventuale esportazione di organi o il trapianto che deve essere fatto il prima possibile Ma in realtà no, questo problema non c'è nel senso che le attività trapiantologiche devono essere per necessità concentrate in centri specializzati Non si può pensare che ogni ospedale, anche il più piccolo, possa fare attività di trapianto perché ci sono dati che dimostrano molto bene che la qualità e i risultati dei trapianti sono anche correlati al numero di interventi e quindi per avere dei trapianti che funzionano bene bisogna avere centri che ne fanno tanti quindi bisogna concentrare queste attività è chiaro che questo si traduce in alcuni casi in un piccolo disagio per i pazienti trapiantati e le famiglie che magari devono spostarsi per avere questa terapia però nel caso dell'Umbria, come dicevo prima sono stati fatti degli accordi con centri di trapianto vicini per esempio con Ancona nelle Marche per fare i trapianti di fegato oppure con Bologna, con i trapianti di cuore per dare modo ai cittadini Umbri di avere comunque questa terapia a disposizione anche se non nella regione il problema dell'urgenza non sussiste perché poi nel trapianto urgente questi pazienti hanno comunque il tempo di essere afferiti alla struttura di trapianto quindi nell'emergenza comunque c'è sempre il tempo per far arrivare poi il paziente nella struttura che deve fare il trapianto si tratta di spostamenti di qualche ora Lei è direttore del Centro Nazionale Trapianti da circa un anno perché se non sbaglio l'insedimento risale al marzo del 2019 Siamo proprio vicini al primo compleanno Le chiedo che tipo di situazione ha trovato al momento in cui ha preso questo incanto Diciamo che in realtà il Centro Nazionale Trapianti io lo conoscevo già abbastanza bene perché ovviamente essendo uno dei nodi principali della rete noi ci interfacciavamo con il Centro Nazionale Trapianti perché io ero responsabile del centro di coordinamento del Nord Italia Transplant quindi di una struttura di coordinamento analoga al CNT ma con sede a Milano che coordinava l'attività in una serie di regioni del Nord Italia quindi l'interfaccia era abbastanza stretta e conoscevo anche molte delle persone che lavorano al CNT quindi è stata una novità ma neanche troppo Ho trovato una grande professionalità delle persone che lavorano al CNT che già conoscevo ma che mi è stata poi confermata con i mesi di lavoro e ho trovato anche una grande disponibilità umana ad accogliermi ecco perché poi quando si entra in un contesto che ha lavorato così bene per tanti anni bisogna anche entrare un po' in punta di piedi ma io penso di aver avuto un'ottima accoglienza da questo punto di vista Si è concentrato su qualcosa in particolare? Presumo di sì però comunque glielo chiedo nel momento in cui hai iniziato cioè si era dato già degli obiettivi? Ma allora è chiaro che poi ciascuno ha il suo stile io ovviamente conosco molto bene Alessandro Nannicosta che è il direttore che mi ha preceduto e che di fatto ha creato possiamo usare questa parola il Centro Nazionale Trapianti perché è stato il primo e l'unico direttore per vent'anni quindi ha interpretato anche il ruolo del Centro Nazionale Trapianti secondo uno stile e delle necessità che poi la rete ha condiviso quindi io vedo molto il mio lavoro in continuità con quello che è stato fatto precedentemente apportando qualche piccola modifica che poi in qualche modo fa parte dello stile che ciascuno di noi ha e delle priorità che in qualche modo definisce però direi che c'è una buona continuità tra il lavoro che è stato fatto e quello che stiamo andando avanti a fare quindi il mio pensiero rispetto alla storia rispetto a quello che è stato fatto in questi vent'anni è molto positivo pensa si sia già vista in qualche modo la sua mano in questo primo anno? ma questo forse bisogna chiederlo ai miei collaboratori perché non lo so, ripeto penso di sì nel senso che alcune scelte sono state fatte in continuità in qualche caso c'è stata qualche interpretazione differente lo stile della direzione fa parte del carattere di ciascuno di noi quindi insomma penso la risposta è forse sì però poi magari in separata sede lo chiederemo anche ad altri come si sviluppa la sua giornata solitamente? quali sono gli impegni? è la mia giornata cioè su cosa deve concentrarsi maggiormente un direttore di una realtà allora guidando una squadra così articolata e una rete così complessa questo è purtroppo o per fortuna un lavoro a tempo pieno quindi la giornata è piena da quando ci si sveglia al mattino a quando si va a letto la sera e qualche volta magari anche di notte perché avendo poi delle funzioni operative alle volte succede di essere magari svegliati di notte potrebbe essere un po' così strano pensare che un direttore interviene anche in funzioni operative ma in questo un po' ci gioca la mia esperienza perché io vengo da funzione di coordinamento ma so che lo faceva anche il direttore precedente per guidare la rete alle volte l'intervento del direttore anche in in questioni diciamo operative può essere importante di rimente è stato richiesto un mio intervento e siamo riusciti a fare in modo che questo test è stato effettuato in un altro ospedale di un'altra regione della Lombardia nella fattispecie quindi è stato possibile utilizzare il donatore grazie alla grande collaborazione che c'è all'interno della rete tra le regioni diverse e da un piccolo intervento di facilitazione da parte mia un'ultimissima domanda direttore perché siamo veramente in chiusura volevo soltanto sapere quali sono al momento le priorità per quanto riguarda il centro e il suo più adeguato funzionamento le priorità sul versante del trapianto di organi è sempre quella di aumentare il numero dei donatori di fare in modo che tutti i potenziali donatori possano essere poi utilizzati su questo noi ci stiamo concentrando con una serie di iniziative come ho detto prima ma rappresenta il tema principale poi c'è un tema di qualità e di sicurezza dei trapianti i risultati dei trapianti sono eccellenti già oggi e anche confrontati con quelli che ci sono in altre nazioni sono davvero molto buoni però bisogna migliorare soprattutto per il fatto che noi abbiamo donatori che sono sempre più anziani e quindi dobbiamo utilizzare gli organi e fare in modo che la qualità dei trapianti si mantenga elevata questo lo si ottiene attraverso un'accurata selezione dei donatori che viene fatta ovviamente andando a valutare con una serie di esami che il donatore non sia portatore di patologie che possono poi essere trasmesse con il trapianto che possono in qualche modo inficiare i risultati del trapianto e poi lavorando con i centri di trapianto su tutte quelle misure che aiutano a far durare di più gli organi una di queste per esempio è abbastanza nuova la possibilità che oggi abbiamo di conservare dopo il prelievo l'organo in macchine di perfusione che ci consentono di valutare bene la funzione di quell'organo prima che venga trapiantato e questo è un modo per capire se andiamo a trapiantare degli organi efficaci oppure no poi c'è tutta la gestione del paziente trapiantato anche questo è un tema importante con il quale si lavora con i centri di trapianto dove bisogna ottimizzare il follow up bisogna fare in modo che i pazienti trapiantati vengono controllati adeguatamente che la terapia immunosoppressiva venga fatta in modi adeguati noi facciamo una valutazione nel tempo dei risultati dei trapianti proprio per capire per confrontare anche tra i centri quali sono i dati e questo ci consente di avere poi in prospettiva dei risultati sempre migliori e poi c'è la ricerca che si fa anche in ambito trapiantologico il trapianto è una terapia standard però ci sono alcune attività di ricerca che devono essere mantenute perché la rete deve crescere anche da questo punto di vista lo immaginavo direttore siamo ai saluti io la ringrazio tanto per essere stato nostro ospite in bocca al lupo per tutto mi sembra doveroso grazie a lei io come dire sono confidente sul fatto che la rete trapiantologica è una rete matura sicuramente ci sono delle criticità quindi dobbiamo andare a migliorare ma credo che le premesse siano estremamente confortanti per risultati futuri grazie grazie ancora a Massimo Cardillo direttore del Centro Nazionale Trapianti grazie a voi per l'attenzione in chiusura vi ricordiamo sempre di seguirci anche sui social network avete solo infatti su Facebook Twitter ed Instagram seguiteci anche lì per essere aggiornati rispetto a tutte le nostre attività che riguardano l'informazione ma anche le produzioni di trasmissioni ci vediamo la prossima settimana buon proseguimento con i nostri programmi arrivederci